Grazie a tutti Oggi è un giorno festivo, quindi su Radio Buon Consiglio vai in onda del panincesto festivo e quindi prendiamo una piccola parentesi dal ciclo di catechesi sulla Divina Volontà riflettendo un po' sull'assunta oggi, come mi ha chiesto la redazione però dobbiamo sapere che l'assunta è l'esaltazione della Divina Volontà e quindi facciamo una piccola parentesi nelle nostre meditazioni ma al tempo stesso rimaniamo in ambito, che ambito diciamo così, di materia perché c'è proprio uno scritto negli scritti di Luisa dove, e che oggi leggeremo e commenteremo addirittura la festa dell'assunta si dice che si dovrebbe chiamare la festa della Divina Volontà e chi lo dice insomma non è l'ultima ruota del carro ma è il nostro Signore Gesù Cristo lo capiamo subito prima ancora di leggere questo meraviglioso testo che poi brevemente commenteremo questa catechesi sarà un pochino più breve del solito perché la Madonna è stata assunta in cielo, come sicuramente avremmo già ascoltato nelle sante messe che abbiamo partecipato, per il suo essere stato completamente esente da ogni minima macchia di peccato originale e attuale solo che come vedremo la Madonna non si è fermata qui quindi non ha semplicemente tenuto il serpente malefico schiacciato sotto il suo santissimo piede ma ha esaltato al massimo possibile tutte le potenzialità umane create da Dio e l'unione assolutamente indefettibile e irraggiungibile che ha mantenuto quella Divina Volontà noi stiamo facendo questo ciclo di catechesi su spazio giovane con l'intenzione che a qualcuno venga un pochino di voglia di innamorarsi del mondo del Divino Volere per raggiungere un altissimo grado di santità ma non solo, per raggiungere la gioia e la felicità sulla terra una grandissima gloria in cielo per far felice Gesù per far felice la Santissima Trinità per far felice la Divina Maria che è l'incaricata suprema, numero uno di insegnare agli uomini il regno della Divina Volontà in cui lei ha vissuto per prima, prima e meglio e in cui non si potrà mai essere raggiunta perché lei ha cominciato, come sappiamo, all'istante del suo concepimento a vivere nel Divino Volere e ha terminato con l'ultimo secondo della sua vita mortale fino a quando i suoi santissimi e benedettissimi occhi che formano la gioia dei beati in cielo e beati a chi ha potuto vederli anche su questa terra quindi non so se oggi è consentito avere un pochino di santa come dire, nostalgica invidia ma il desiderio di vedere Gesù e Maria purché non sia unito alla tracotanza di pretendere che ci appaiono un desiderio benedetto insomma, anzi, lo gradiscono dal cielo e quindi fino a quando ha chiuso i suoi occhi sulla terra che è stato poi ben poco il tempo in cui li ha tenuti chiusi il tempo che gli angeli prendessero il corpo e lo portassero in cielo ha vissuto solo di Divina Volontà quindi io vi consiglierei vivissimamente di chiedere alla Divina Maria di rivelarci per quanto è possibile in questo mondo immaginate che cosa potrebbe essere se noi potessimo conoscere l'anima di Maria di cui sappiamo qualcosa dagli scritti dei santi da San Luigi che la conosceva molto bene da qualche mistico che ha conosciuto molto molto insomma della Divina Maria però è sempre troppo poco quindi se noi potessimo vedere non soltanto l'incanto del suo corpo che se lo vedessimo diventeremmo già beati sulla terra ma se potessimo vedere anche l'incanto della sua anima e lo splendore degli atti che compiva resteremmo tutti quanti stesi io personalmente penso che non ce la farei a continuare a vivere sul pianeta terra quindi è meglio che questa cosa sia riservata per il cielo perché stiamo dinanzi alla fuoriclasse al capolavoro ma le parole per descrivere la Madonna anche quello che dirò oggi io mi sento sempre male in parte dopo che ho parlato di Maria Santissima perché mi sembra sempre di aver detto quattro sciocchezze insomma quattro cose tanto piccole in confronto a quanto è grande quindi preghiamo che sia contenti del nostro balbettare qualcosa grazie a Dio adesso leggiamo questo testo che ci aiuterà non poco a penetrare con la divina grandezza di questa creatura allora lo scritto è del volume 18 chiaramente 15 agosto del 1925 e vi leggiamo scritte queste cose scrive Luisa continuavo a fondermi nel santo volere divino per ricambiare il mio Gesù col mio piccolo amore di tutto ciò che ha fatto per lo mangiare nella creazione ed il mio amato Gesù muovendosi nel mio interno per dare più valore al mio piccolo amore faceva insieme con me ciò che io facevo ed in questo mentre mi ha detto figlia mia tutte le cose create furono fatte per l'uomo e tutte corrono verso l'uomo non hanno piedi ma tutte camminano tutte hanno un modo o per trovarlo o per farsi trovare la luce del sole si parte dall'altezza dei cieli per trovare la creatura illuminarla e riscaldarla l'acqua cammina per giungere fino alle viscere umane per dissedarla e rinfrescarla la pianta, il seme, cammina squarcia la terra, porta il suo frutto per darsi all'uomo non c'è cosa creata che non abbia un passo, un moto verso chi l'eterno fattore l'aveva diretta nella loro creazione la mia volontà mantiene l'ordine, l'armonia e le tiene tutte in via verso le creature sicché è la mia volontà che cammina sempre nelle cose create verso la creatura non si ferma mai è tutta moto verso chi tanto ama eppure chi dice un grazie alla mia volontà che le porta la luce del sole l'acqua da bere per dissedarlo il pane per sfamarlo il frutto, il fiore per ricrearlo e tante altre cose che le porta per renderlo felice non è giusto che facendo tutto la mia volontà per lui l'uomo facesse tutto per compiere la mia volontà? o se tu sapesti la festa che fa la mia volontà nelle cose create quando cammina e serve a chi compie la mia volontà questa è un po' una premessa ancora non entriamo nel merito della grandezza della Divina Maria la mia volontà operante è compiuta nella creatura e quella operante nelle cose create mentre si incontrano insieme si baciano, si armonizzano si amano e formano l'inno l'adorazione al loro creatore ed il portento più grande di tutta la creazione le cose create si sentono onorate quando servono alla creatura che è animata da quella stessa volontà che formano la loro stessa vita invece la mia volontà si atteggia a dolore nelle stesse cose create quando deve servire a chi non compie la mia volontà ecco perciò ne avviene che molte volte le cose create si mettono contro l'uomo lo colpiscono, lo castigano perché loro si rendono superiore all'uomo conservando integra in loro quella volontà divina di cui furono animate fin dal principio della loro creazione e l'uomo è sceso nel basso non conservando lui la volontà del suo creatore guardate che in queste parole non mi dirungo molto perché adesso dobbiamo giungere alla festeggiata e dobbiamo parlare di lei ma ci sarebbe da fare una catechesi di un'ora su quello che abbiamo appena letto mi permetto soltanto di far notare l'ultimo passaggio cioè il non rendere grazie a Dio come ci dice la Santa Messa nel prefazio veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre in ogni luogo a te Signore Padre Santo per Gesù Cristo tu direttissimo figlio e per tutte le cose che in Lui e grazie a Lui ci ha donato a partire da quelle della creazione il sole ci illumina l'acqua la beviamo il cibo lo mangiamo e le piante danno i frutti per noi gli uccellini ci allietano le orecchie il mare ci dà il sole frigerio e tutto il resto la mia volontà sarebbe felice di poter incontrare la volontà umana che prende il mio Tiamo ricambia il mio Tiamo ringrazia e quindi godiamo insieme oggi è stata l'assunta ci sono i grandi pranzi insomma dell'assunto i momenti in cui si sta insieme sono cose di cui di viverle in rendimento di grazia rendendo tanto grazie al Signore per questo capite? e chi lo fa? pochissimi? allora spiega a Gesù attenzione quando uno ruba è una sorta di è un latrocinio continuo capite? da parte dell'essere umano che si acchiappa ruba si accaparra prende capite? con quelle le cose che non sono le sue che sono state donate da Dio con tanto amore e le prende le maltratta le bistratta le cose non solo senza dire grazie ma anche trattandole qualcuno ha criticato Papa Francesco perché si occupava troppo del creato che dice ma che stiamo scherzando ma per noi figli di Dio il creato è una cosa importantissima non come lo è importante per le hollus per tutti quanti i laicisti che ne fanno un feticcio una specie di idolo strano no? ma nel creato c'è la voce di Dio capito? se tu sporchi e inquini un posto ti viene a confessare capite? non è che ti viene a confessare perché hai trasgredito l'educazione civica per carità che c'è una solignità che è importante ma tu stai imbrattando una cosa che viene da Dio tu prendi una busta di plastica e la butti dentro un bosco ma come ti permetti di fare una cosa di questo quel bosco l'ha creato il nostro signore non è soltanto il gesto incivile perché poi chi passa per quel bosco vede la busta tua e ti dice ma tu guarda dove ti puoi andare a camminare ma chi ti ha autorizzato a fare una cosa di questo genere mica roba tua quel bosco il bosco l'ha creato la divina volontà tu ci passeggi godine e loda il signore quando hai a fare una passeggiata nel bosco d'accordo? io ho avuto la grazia di fare qualche passeggiatina e ho sommamente ringraziato il signore ma tu non lo puoi imbrattare perché se tu maltratti il creato dice Gesù ti si rivolta contro molte cose si mettono contro l'uomo lo colpiscono lo castigano perché loro si rendono superiore all'uomo conservando l'intera quella di volontà divina capite? da dove vengono i terremoti i maremoti gli tsunami e tutti i cosiddetti cataclismi naturali questa è una cosa che la chiesa ha sempre insegnato tra l'altro in maniera un po' più soft un po' più vaga ma è chiarissima la cosa dalla natura che si ribella lei che è obbediente e continua a fare le cose che il divino volere gli ha detto di fare perché funziona in automatico a noi che invece la violentiamo ce ne serviamo malamente comunque anche quando non usiamo la natura usiamo la nostra volontà per andare a fare guai offendere Dio e combinare guai e al creato la natura non gli sta bene capite? non ci sono è come se presentasse una sorta di conto a noi disobbedienti che è sempre colpa nostra quando accadde qualche qualche guaio capite? e adesso passiamo alla festeggiata perché già mi sono dilungato fin troppo vi ripeto ci sarebbe molto ancora da commentare su questi passaggi dopo di ciò mi sono messa a pensare alla festa della mia celeste mamma assunta in cielo ed il mio dolce Gesù con un accento tenero commovente assoggiunto figlia mia il vero nome di questa festa dovrebbe chiamarsi la festa della divina volontà attenzione fu la volontà umana che chiuse il cielo che spezzò i vincoli col suo creatore che fece uscire in campo le miserie il dolore e che mise un termine alle feste che la creatura doveva godere nel cielo capito? io oggi ce l'ho fatta una bella predica ai miei fedeli come sarebbe stata la vita umana? la vita umana sarebbe stata un incanto noi saremmo passati dal paradiso terrestre al paradiso celeste sarebbe stato un godimento ininterrotto una festa continua come tra l'altro proprio di Dio perché a Dio non gli piacciono le cose brutte a Dio non gli piacciono le sofferenze capite bene quello che sto dicendo a Dio assolutamente parlando non gli piace la croce assolutamente parlando capite bene a Dio piace la croce dopo il guaio del peccato dell'uomo non solo che gli piace gli piace tanto perché è stato lo strumento per rimediare a quel danno fatto dall'uomo ma Dio non è sofferenza di per sé stesso Dio non è dolore Dio non è tribolazione Dio è somma gioia Dio è somma felicità e questo aveva pensato per noi vedete e la Divina Maria ha sofferto come ho detto in una predica perché purtroppo è stata anche la Madonna addolorata ma la Divina Maria non ha sofferto come e perché soffriamo noi quindi per colpa sua la Divina Maria ha sofferto come figlio come atto di amore che si è preso i mali che noi abbiamo generato nell'amore che aveva offrendo e ristabilendo la Divina Giustizia e riparando e riequilibrando tutto il creato attraverso questa montagna di dolore offerto con tutta la carità e l'amore di cui era capace altrimenti la Divina Maria che comunque alcuni dolori non li ha avuti non pensate che la Madonna ci avesse raffreddore o cose di questo genere d'accordo le uniche sofferenze della Madonna sono state quelle interiori tra l'altro o le penitenze che avrà fatto sicuramente lei qualche digiuno o qualche altra cosa che probabilmente avrà fatto ma tutte in funzione della ritenzione ma la Madonna la scienza infusa ce l'aveva sicuramente certamente la Madonna il raffreddore non ce l'aveva la Madonna ha avuto un parto in dolore questo non ne siamo certi e quindi da alcune conseguenze della colpa d'origine è stata esente la Madonna non è morta come moriamo noi il suo corpo non è marcito la sua anima non si è totalmente staccata dal corpo lasciando il corpo come dire in preda all'inizium corruzionis assolutamente la parte superiore era in estasi e il corpo è stato preso su dagli angeli e quando è uscita dall'estasi si è trovata in cielo la Madonna così ha funzionato ecco allora quindi la volontà umana che ha causato tutti quanti i disastri d'accordo la volontà umana attenzione non in quanto creatura cioè non in quanto potenza spirituale ricordiamo sempre che la volontà umana in quanto potenza spirituale è una cosa buona qui si parla di volontà umana intesa volontà che si distacca dalla volontà di Dio e comincia a fare di testa propria che diventa una follia d'accordo una bomba atomica deflagrante capite è un detonatore pazzesco ora questa creatura torniamo agli iscritti cioè la Divina Maria regina di tutti col fare sempre ed in tutto la volontà dell'Eterno attenzione che parla anche di fare ricordiamo sempre che prima di essere nella Divina Volontà bisogna imparare a farla io non è inutile che dico viene Divina Volontà della Catechesi che sto facendo d'accordo e poi è finita la Catechesi e esco fuori trovo una persona che mi dà fastidio e me la magno viva d'accordo senza che ho imparato almeno a capite come quando dico non basta dire Fiat e non so dire 4 Fiat per pensare di essere nella Divina Volontà è un processo complesso perché essere nella Divina Volontà va oltre il farla ma lo presuppone non dimentichiamolo mai e farla non è mica una cosa così scontata perché tutti quanti i santi che ci hanno preceduto hanno sputato sangue per fare la Divina Volontà quindi non è che sia una cosa così da dare per scontata o così semplice ora questa creatura reggina di tutti col fare sempre di in tutto la Volontà dell'Eterno anzi si può dire stupenda espressione che la sua vita fu la sola Volontà Divina ricordiamo quello che lei rivelò nel testo la Vergine Maria della Divina Volontà dal primo istante del mio concepimento la sua prova fu tu rinunci alla tua Volontà umana per vivere solo di Volontà Divina e non concederle neanche un atto autonomo neanche mezzo pensiero la risposta è sì e così è stato poi la Madonna non si rimangia le cose che dice allora vuol fare sempre tutta la Volontà dell'Eterno anzi si può dire che la sua vita fu la sola Volontà Divina aprì il cielo capite e attenzione che la Divina Maria ha preceduto cronologicamente il nostro Signore quindi non bisogna scandalizzarsi e dire che addirittura ha cominciato prima lei a fare la Divina Volontà come donna come membro della razza umana che Gesù Cristo è assolutamente in dubbio almeno 14 anni prima non ci piove capite quindi la prima a rivivere nella Divina Volontà è stata la Madonna è stata neanche il Figlio quindi aprì il cielo ed è stato questo suo ricominciare a vivere nella Divina Volontà che ha come dire aspirato Gesù anticipando a quanto sembra addirittura l'incarnazione aprì il cielo si vincolò con l'Eterno continuò a leggere e fece ritornare le feste nel cielo con la creatura se uno legge io mi dimentico che ormai le prime volte che leggevo la prima serie di scritti che mi è capitato che non lo dimenticherò mai cioè le gare che la Madonna faceva con l'Altissimo allora l'Altissimo la riempiva d'amore e la mandava in estasi no? e quando lei si trovava davanti al trono di Dio ti faceva girare la testa perché non so che cosa si inventava perché poi cioè ma il suo amore la sua dolcezza la sua delicatezza e il suo ardore nei confronti dell'Altissimo ti faceva girare la testa al Padre Eterno capite? quindi faceva una gara a chi si amava di più chiaramente questa era un'esplosione di festa un'esplosione di gioia un amore infinito che vivivano il creatore e la creatura cioè soltanto la Madonna conosce queste cose qui cioè il mistero del rapporto di Dio come amore folle d'accordo? inimmaginabile per noi lo conosce soltanto la Divina Maria capite? fece ritornare le feste nel cielo con la creatura la Trinità stava tutta gasata e se perdoni il termine insomma che abbia pietà di meno il nostro nostro Signore uso questi termini molto umani e molto feriali ma anche molto espressivi per noi esseri umani ogni atto che compiva nella volontà suprema cioè tutti quindi immaginate Dio che continuamente sta sussultando di gioia vedendo quello che fa la Madonna era una festa che iniziava in cielo quindi immaginate da quando la Madonna è stata sulla terra ci sono stati 72 minimo anni la corona della Francescana che si basa sulla tradizione che gli anni terreni della vita di Amrillo sono stati 70 72 anni provate a fare questa bella moltiplicazione guardate quanti secondi ci stanno in 72 anni perché se uno conta i secondi forse non so se andrà a vedere i millisecondi o i nanosecondi perché la Madonna non gliene sfuggiva uno capite quindi immaginate quante feste hanno fatto in cielo 72 anni quanti giorni sono sono 365 per 72 poi 365 giorni quante ore sono possiamo moltiplicarlo per 24 poi quanti minuti sono per 60 quanti secondi per 60 ma vede che numero esce fuori e così contiamo se qualcuno si prende questo sfizio quante feste hanno fatto in cielo da quando la Divina Maria è scesa sulla terra qualche miliardo di feste non lo so perché il numero esce fuori con tutte quante stesse moltiplicazioni non l'ho fatto prima feste in cielo ogni atto sta scritto qui che compiva nella volontà suprema cioè tutti era una festa che iniziava in cielo erano soli che formava come ornamento di questa festa erano musiche che spediva per allietare la celeste di Gerusalemme capite il nostro Signore stava con lo sguardo fisso capite guardando quello che combinava in senso buono di straordinariamente eccellente questa straordinaria creatura che io vi auguro a tutti di poterla conoscere e amare senza limiti perché ha un incanto indescrivibile sicché la vera causa di questa festa è la volontà eterna e operante compiuta nella mia mamma celeste che operò state attenti tali prodigi in lei che stupì cieli e terra capite cosa significa stupire il cielo vuol dire che chi di noi si immagina com'è il nostro Signore ma che il nostro Signore a quello che sta scritto qui guarda e dice ma guarda questa che ha combinato questo è un senso buono guarda 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 che sta a fare guardando la Madonna stupisce l'eterno incatenò l'eterno con i vincoli di solubile avete capito ha incatenato l'eterno cioè l'ha costretta l'ha costretto ad amarlo cioè Dio è onnipotente può fare tutte le cose si può non amare la Madonna no non può attenzione a chi non ama la Madonna perché manco Dio è buono a non ama la Madonna non è buono non lo può fare è rimasto incatenato capite la Madonna ha incatenato il Padre Eterno e l'ha incatenato con vincoli d'amore l'ama talmente tanto e guarda che gliela tocca negli scritti di Maria Valtorta ispirate o non ispirate dategli il credito che vuole a un certo punto Gesù dice volete fare qualunque cosa lasciate perdere mia madre non gliela tocca cioè se mi voleva dire a bestemmi contro di me se ti penti ti perdono fa tutto quello che ti pare quando commenta la passione non dice tutto quello che mi hanno fatto tutti gli sputi tutto il disprezzo me li prendo tutti quanti ma il dolore che hanno dato a mia madre trattandomi così io quello me lo ricordo quello me lo ricordo e quanto si ricorderà in positivo Gesù l'amore che noi avremo per la madonna le riparazioni che le avremo offerte i rosari amorevoli che gli avremo detto quanto se lo ricorderà tanto no? e riprendo la lettura stupi cieli e terra incatenò con i vincoli disolubili d'amore e sentite rapì il verbo fin nel suo seno l'ha rapito capite? sapete cos'è un rapimento io ho studiato diritto penale il rapimento che tu prendi una persona e con la violenza te la freghi la porti via capite il senso no? cioè l'amore così ardente che ci aveva le sue preghiere per l'invento erano talmente forti violente che hanno quasi costretto il verbo a scendere dentro qualsiasi anno io dico sempre che l'ha quasi aspirato capite? cioè io mi immagino un nostro signore che sta in paradiso e che dice ma no ci mancano ancora 15 anni all'incarnazione dice no io non ce la faccio più io vado Pia Gabriele dice vai ma il signore ci mancano 15 anni non me ne importa niente vagli a di sta cosa io devo andare non ce la faccio più io me lo immagino così rapì il verbo fin nel suo seno gli stessi angeli rapiti ripetevano madonde tanta gloria tanto onore tanta grandezza e prodigi mai visti in questa incelsa creatura capito? gli angeli oh ma gli angeli sono molto più grandi di noi capite? quell'imbecille di Lucifero sto cretino che non è altro capite? e che lo sa benissimo che la madonna è molto più grande di lui e ne soffre e gli fa la guerra e non se la gode sto cretino che non è altro e gli altri invece se la so goduta dicevano oh ma chi è? eppure è dall'esilio che viene gli angeli quando la madonna veniva assoluta dice ma chi è questa qui? oh ma questa è più grande di noi noi siamo puri spiriti e attoniti riconoscevano la volontà del loro creatore come vite operante in lei quindi tutta la grandezza della divina Maria così non ne facciamo una sorta di malsano idolo d'accordo? perché tutte quante le cose vanno ordinate a Dio anche il culto dei santi anche i rapporti col padre spirituale col confessore devono essere tutti ordinati non ci si attacca mai alla creatura di per se stessa ma sempre nella relazione che ha con Dio la grandezza della madonna dipende dalla solione con la divina volontà ed è per questo che dobbiamo darle tutta la venerazione possibile capite? se non l'avesse avuta questa unione non sarebbe stata quella che è stata attoniti riconoscevano la volontà del loro creatore come vite operante in lei e tremebondi dicevano santa 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 onore e gloria alla volontà del nostro sovano signore e gloria e tre volte santa pur a lei come al signore che ha fatto operare questa suprema volontà sicché la mia volontà capite e così facciamo contenta la madonna che non vuole essere neanche lei idolatrata di per se stessa e sempre tutta relativa a Gesù e alla divina volontà sicché la mia volontà che più che tutto fu ed è festeggiata nell'assunzione della mia madre santissima fu la sola mia volontà che la fece scendere tanto in alto cioè non ci arriva nessuno dove sta la madonna non ci arriva nessuno non ci arriverà mai nessuno saldi sopra tutti gli antili angeli e le santi messi insieme ma perché per l'unione con la divina ma interrotta mai noi sappiamo che negli scritti di luisa si dice che dio ha redento ad amo per gli atti compiuti nella divina volontà prima del peccato originale perché quegli atti essendo atti eterni e divini sono atti che manco se ammazzi tutto il mondo li puoi cancellare capito immaginiamo una vita ininterrotta 72 anni fate il conto dei secondi quante feste e quanti atti ha fatto la divina maria ammesso che in un secondo ne facesse uno solo poi tutto il resto lo dice gesù eh quello che ho detto prima io sarebbe stato come nulla se non avesse prosseduto il prodigio del mio colere tutte le virtù di maria che avrebbe comunque avuto in quanto donna e l'avrebbe avuta comunque d'accordo perché la divina maria anche nella sua umanità è santissima capito ma sarebbe stato un nulla se non avesse prosseduto il prodigio del mio volere noi non possiamo avere l'innocenza di maria capite non siamo immacolati però possiamo vivere nel di involere ragazzi è certo non ci possiamo vivere da distante nel nostro concepimento e ci e ci entreremo un po' mal ridotti come siamo oggi ma questo lo possiamo fare lo possiamo volendo ecco perché io mi sto prodigando io ho capito insomma qui ci sta veramente tanta roba sopra perché Gesù sta dicendo che più grande delle sue immensissime virtù guacchi la tocca la divina maria però è stata l'unione con il divino volere fu la mia volontà che le diede regina di tutti la faceva imperare e dominare onde in quel giorno l'assunzione la mia volontà ricevette i primi onori la gloria e il frutto abbondante del suo lavoro nella creazione e incominciò la sua festa in cielo da allora c'è una festa perpetua capite che mai interrompe per la glorificazione del superato nella mia diretta madre capito in paradiso c'è questa festa perpetua non l'aveste già una volta l'anno l'assunta lì è full time no stop H24 anche se il tempo non ci sta in perpetuo e sebbene il cielo fu aperto da me dice Gesù ovviamente e molti santi stavano già in possesso della patria celeste quando la regina celeste fu assunta in cielo c'erano molti già che erano entrati in paradiso perché dal sabato santo da quando Gesù scese al limbo e tirò fuori i santi padri il cielo si è aperto dopo il compimento della redenzione e quindi molti santi erano già andati in paradiso quando la regina celeste fu assunta in cielo ma però come causa primaria era proprio lei cioè quelli stavano in paradiso grazie a lei che aveva compiuto in tutta la suprema volontà e perciò si aspettò con lei che tanto l'aveva onorata e conteneva il vero prodigio della santissima volontà per fare la prima festa al supremo volere stupendo o come tutto il cielo magnificava benediva lodava l'eterna volontà quando vedeva questa sublime regina entrare nell'empireo in mezzo alla corte celeste tutta circonfusa dal sole eterno del volere supremo la vedevano tutta tempestata della potenza del Fiat Supremo non c'era stato in lei neppure un palpito un battito del suo cuore ho sbagliato prima non ce la facciamo neanche se contiamo tutti quanti i secondi perché in un secondo lei faceva un sacco di cose perché il suo cuore faceva un battito al secondo più o meno il suo respiro andava uno al secondo e nel frattempo c'era la circolazione del sangue e poi c'era il battito delle ciglie e poi c'erano gli atti pensieri le azioni che faceva quindi manco se contiamo i secondi arriviamo agli atti fatti nella divina volontà dalla madonna non ci si arriva capite la vedevano tutta tempestata della potenza del Fiat Supremo capirà il demonio quando arriva la divina maria le corse che fa le corse che fa ma gli atomo fa furono le corse al demonio perché sentiamo il regno della divina volontà ricordatevi che il demonio fa le corse capito non ci si manca avvicina a provarci a farci una tentazione non ci si proprio azzarda ti può scatenare l'inferno contro il mondo contro come ho fatto del resto con la madonna e con Gesù ma non ci si manca avvicina a te personalmente la potenza del Fiat Supremo ma chi resiste alla divina volontà chi si può opporre alla divina volontà non c'era stato in lei neppure un palpito che non aveva impresso questo Fiat e attoniti la guardavano le dicevano e noi diciamo con loro pieni di gioia io se potesse che tutta la mia vita d'accordo tutto questo sangue marcio che c'ho servisse a dare un infinitesimo di gloria accidentale in più alla divina maria anche se io stessi nell'ultimo gradino del paradiso io lo farei subito immediatamente ascendi ascendi più in alto è giusto che con lei che è tanto onorato il Fiat Supremo e che per mezzo su ci troviamo noi nella patria celeste voce dei santi abbia il trono più alto e che sia la nostra regina ed il più grande onore che ricevette la mia mamma fu il vedere glorificata la divina volontà e quindi il più grande amore che vedrà in noi quindi tu vuoi dare tanto onore alla Madonna vuoi farla felice vuoi farla contenta ah benissimo prova a entrare nel regno della divina volontà in cui lei ti prende per mano e ti ci porta se lo vuoi ma lo devi volere sul serio però lo devi volere sul serio senza sé e senza mai e cominciando soprattutto a fare bene in tutto la divina volontà non soltanto stando lontano dal peccato che quello nemmeno se ne parla tra i figli della divina volontà ma cominciando a moltiplicare il bene cominciando a spandere carità e amore in giro e dappertutto dolcezza dappertutto preghiera e amore a Gesù tutto quello che vuoi fare perfezione in tutti gli atti interiore ed esteriori fisici corporei spirituali e morali indifferenti tutto deve essere inglobato unito fuso con il mondo della divina volontà questo è il senso più profondo di questa grandissima festa chiediamo alla divina maria io lo auguro a tutti voi ascoltatori ci sto facendo con molta spero umiltà perché sono un novizio in questo mondo e sono quindi sempre in ascolto e sto imparando però anche con tanto entusiasmo questo ciclo di catechesi perché abbiamo visto cosa è successo con la divina maria e nella divina volontà c'è il segreto della gioia e della felicità in terra e di un'altissima gloria in cielo guardate che i santi che diventeranno santi nella divina volontà quindi avranno imparato a fondersi con la divina volontà hanno fatto atti divini con tutto il rispetto e lo dico tremando non dico che sono io per chi ha tutto da dimostrare che stia realmente vivendo unito a voi divini questo nessuno lo può sapere con certezza ma i santi più grandi non possono minimamente competere con chi ha fatto anche solo un atto profondo nel divino volere capite? non possono perché sono tutti quanti atti umani ricordate sempre concludo la famosa metafora che fa San Luigi Monfort lasciando dice Luisa non ci credo perché è ancora serba di Dio non è stata canonizzata chi lo sa da dove vengono questi scritti in parte che non si può dire perché sono già stati come dire sdoganati diciamo così dalla comunicazione della rotina della fede però facciamo finta che sia vero ma San Luigi Maria Monfort dice parlando della divina Maria che un suo punto d'ago quindi punto d'ago è infinitamente più grande del martirio di San Lorenzo lui diceva per la purezza delle sue intenzioni ancora San Luigi non aveva conosciuto il dono della divina volontà noi aggiungiamo per la purezza delle sue intenzioni perché reagiva soltanto per la cura di Dio e la salvezza delle anime unita alle intenzioni di Gesù ma perché erano così pure per la fusione con la divina volontà capite è quindi un punto d'ago un atto divino infinito eterno immenso e vale più da tutte e tante le sofferenze offerte da quel povero San Lorenzo insomma arrosi tu sulla graticola tanta roba tanta sofferenza ma sono sempre atti umani eroici con più di grazia quindi immensi meritevolissimi ma non divini ecco perché io consiglio ovviamente consiglio questo è un mio consiglio insomma di un povero prete pensate seriamente a investire tempo risorse attività spirituali energie denaro tutto quello che volete per cercare di entrare davvero nel regno santo e benedetto della divina volontà l'habitat in cui la divina maria è vissuta l'habitat che l'ha portata a tale eccelsa e straordinaria gloria in cielo nel giorno straordinario e prodigioso della sua assunzione che ha dato via ad una festa della glorificazione della divina volontà in una creatura umana che da allora ha cominciato a celebrarsi tuttora in corso e per l'eternità mai avrà fine vi do la mia benedizione da martedì prossimo dovremo ricominciare le catechesi normali Ave Maria